Combattere efficacemente i pidocchi grazie a 5 rimedi naturali. È possibile combattere i pidocchi senza ricorrere a prodotti con composti chimici. Di seguito vi presentiamo alcuni rimedi naturali semplici da preparare, ma molto efficaci. I pidocchi sono parassiti che colonizzano il cuoio capelluto, luogo in cui si riproducono con facilità e dove sopravvivono succhiando sangue. Si prendono a causa del contatto diretto con una persona infetta oppure in seguito all'utilizzo di un articolo per la cura personale dei capelli appartenente ad una persona che li ha già. La loro presenza è considerata antigenica, anche se nella maggior parte dei casi non ha niente a che vedere con la cura dei capelli. Il problema è che i pidocchi sono sgradevoli e, poiché proliferano facilmente, causano problemi cutanei come la comparsa di protuberanze e una ricorrente sensazione di prurito. Per fortuna, però, esistono vari rimedi naturali che, una volta applicati, tengono sotto controllo questo problema e ci aiutano ad eliminare i pidocchi. Nel seguente spazio vogliamo condividere nel dettaglio le 5 opzioni migliori, affinché non esitiate a provarle. 1. Aglio. I composti zolfati dell'aglio e il loro aroma penetrante sono eccellenti repellenti naturali per combattere l'infezione causata dai pidocchi. I suoi composti attivi vengono assorbiti facilmente attraverso il cuoio capelluto e, allo stesso tempo, combattono la presenza di funghi e batteri. Ingredienti 8 spicchi d'aglio 3 cucchiai di succo di limone 30 ml Preparazione Tritate l'aglio fino ad ottenere una composto densa e, successivamente, mescolatelo al succo di limone. Separate i capelli in ciocche, stendete il prodotto e lasciatelo agire per 20-30 minuti. Strofinate per bene il composto su tutti i capelli in modo coprire le zone affette. Trascorso il tempo consigliato, sciacquate ed utilizzate il vostro shampoo abituale. Ripetetene l'uso 3 volte alla settimana. 2. Olio d'oliva La consistenza oleosa dell'olio d'oliva e dei suoi composti antiossidanti sono un'ottima soluzione per eliminare i pidocchi e le lendini. L'applicazione di questo prodotto combatte l'infiammazione causata da questi insetti e allevia il prurito e la secchezza eccessiva. Ingredienti 4 cucchiai di olio extravergine di oliva 64 g 1 cucchiaio di succo di limone 10 ml Preparazione Fate scaldare l'olio. Successivamente, aggiungete il succo di limone ed applicatelo su tutti i capelli. Copriteli con una cuffia e lasciate agire tutta la notte. La mattina successiva eliminate le lendini con un pettino a denti stretti e sciacquate con uno shampoo alle erbe. Utilizzatelo tutti i giorni, fino ad eliminare completamente i pidocchi. 3. Olio di cocco L'azione lubrificante dell'olio di cocco, sommata ai suoi effetti antiparassitari ed antibiotici, facilita l'eliminazione dei pidocchi e delle lendini che vivono tra i capelli e sul cuoio capelluto. La sua applicazione evita che continuino a riprodursi e, allo stesso tempo, controlla l'infiammazione e l'arrossamento. Ingredienti 6 cucchiai di olio di cocco 90 g 1 cucchiaio di olio di rosmarino 5 g Preparazione Mescolate l'olio di cocco con quello di rosmarino, scaldandoli a bagnomaria e applicandoli poi su capelli e cuoio capelluto. Massaggiate per bene durante vari minuti, coprite con una cuffia e lasciate agire dalle 6 alle 8 ore durante la notte. Il giorno successivo eliminate gli insetti con un pettino a denti stretti e sciacquate con il vostro shampoo abituale. Ripetete il trattamento almeno 3 volte alla settimana. 4 Olio di semi di sesamo L'olio di semi di sesamo è un prodotto dalle proprietà antibatteriche, antimicotiche e antinfiammatorie che risultano ottime come trattamento contro l'infezione causata da epidocchi. La sua applicazione sui capelli aiuta ad eliminare le lendini, combatte il prurito e, come se non bastasse, rende la chioma forte e brillante. Ingredienti 6 cucchiai di olio di sesamo 90 g 1 cucchiaio di tea 3 e oil 5 g Preparazione Mescolate gli oli e strofinateli sul cuoio capelluto tramite delicati massaggi. Assicuratevi di coprire tutta la zona infetta, aspettate che agisca per 2 ore e poi risciacquate. Non dimenticate di passare il pettine, per rimuovere le lendini. Utilizzatelo 2 o 3 volte alla settimana. 5 Olio essenziale di lavanda L'aroma dell'olio essenziale di lavanda e dei suoi composti attivi antibatterici ed antinfiammatori agisce per bloccare la riproduzione di pidocchi e lendini nei capelli. Il suo uso elimina questi insetti e riduce le alterazioni che causano al cuoio capelluto. Ingredienti 1 cucchiaio di olio essenziale di lavanda 15 g 2 cucchiai di olio d'oliva 32 g Preparazione Meschiate l'olio essenziale di oliva con quello di lavanda ed applicatelo su tutto il cuoio capelluto tramite delicati massaggi circolari. Fate agire per minimo 2 ore, passate il pettine e poi sciacquate. Ripetetene l'applicazione fino ad eliminare gli insetti. Adesso che sapete come combattere i pidocchi e le lendini in maniera naturale, scegliete di eliminarli grazie a queste soluzioni prima di ricorre a prodotti dai composti chimici.